Il consiglio è di studiare tutto quello che potete per evitare qualsiasi guerra. Ve lo dico perché veramente non c'è barca, non c'è tranquillità né notte né giorno, non ci sono gli orari per andare a scuola, i treni per chi stava in provincia e doveva andare a Modena alla scuola, doveva alzarsi alle 5, per partire alle 5 e un quarto dalla stazione di questo paese che si chiama Formigine, perché mitragliavano continuamente. Questo immaginate, lo so voi, perché più di così non si può dire.